in italia ogni tre giorni viene uccisa una donna hai la possibilità di dire no a tutto questo dobbiamo stare a casa ma se la casa per voi e per i vostri figli è solo un luogo di violenza e paura potete chiedere aiuto le case rifugio e i centri antiviolenza sono aperti alza il telefono e chiama il 15 22 oppure scarica l'app per chattare con un'operatrice la porta per uscire dalla violenza si può sempre aprire libera fuori